Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese alla crema pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa più 10 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, zucchero semolato, latte, tuorli, colla di pesce, fecola di patate, crema pandistelle e stelline di zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettiamo la panna che abbiamo messo per 45 minuti in congelatore. e la facciamo montare senza misurine e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferite in una ciotola capiente. Riporre la panna in frigo. Senza lavare il boccale mettere il latte, la crema pandistelle, i tuorli, lo zucchero e la fecola di patate. Ed azionare il bimbi per 5 minuti 80 gradi velocità 4 aggiungere la colla di pesce ben strizzata ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 trasferire in una ciotola e lasciare intiepilire e mescolare ogni tanto trascorso il tempo aggiungere a cucchiaia della panna ed amalgamare bene trasferire in uno stampo in silicone da 20-22 centimetri riporre in frigo per almeno 10 ore trascorso il tempo abbiamo ripreso la bavarese dal frigo adesso metterla 30 minuti in congelatore per rimuoverla facilmente dallo stampo e servire bavarese alla crema pandistelle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti